È stata una buona partita, era una partita difficile ieri da affrontare, loro erano in bassa classifica, noi dovevamo vincere per tornare avanti e quindi non era semplice, bisognava fare attenzione come approcciare a questa partita. Abbiamo fatto molto bene, sono stati veramente bravi ragazzi, avevamo qualche assenza ma chi ha giocato non ha fatto sentire le assenze, anzi si sono impegnati tanto, qualcuno ha giocato anche fuori ruolo, però hanno fatto veramente bene. Poi c'era un campo difficile, rimbalzava male, noi non siamo abituati a buttare via la palla, però come ho detto anche ai ragazzi a fine primo tempo purtroppo bisogna anche adattarsi a certe situazioni e quindi quando si trova un campo del genere bisogna anche trovare soluzioni differenti. Ieri dovevamo trovare delle soluzioni differenti, non era facile palleggiare in mezzo al campo. Devo dire però che ci applichiamo sempre tanto, siamo riusciti a fare gol su situazioni provate durante la settimana, quindi questo dimostra l'attenzione che ci mettono i ragazzi. Detto questo, mancano sei partite, dobbiamo pensare alla prossima, è una partita impegnativa, ce la giochiamo con tutti, dobbiamo pensare come dico sempre ai ragazzi, partita dopo partita. Siamo arrivati a questo punto e non ci possiamo tirare indietro, quindi dobbiamo fare una buona settimana, un buon allenamento, spero che siano tutti presenti, arriviamo da un momento in cui qualcuno ha avuto qualche acciacco fisico, speriamo di recuperare tutti per domenica.